ALE Ale, sai chi è un pastore? Ma io non ho visto nel cartone di Heidi. Ho dimenticato. Ti sei dimenticato? Le pecore a che cosa servono per te? Per fare i cuti. Devo andare, perché i bambini vogliono vedere le piccole. Il pastore devo andare, non mi fermerà nessuno. Vi è un vecchio pastore di nuvole. Un minatore di desiderio. Un marinaio di lungo corso che ha navigato sui sette dolori. Quando incontro i bambini, non so cosa gli dirò. Prima gli chiedo se voglio essere i miei amici. Poi gli dirò, mi chiamo Renato Tucchelli, abito a Milano e sono un pastore. Ecco, così gli dirò.